Oggi abbiamo avuto la possibilità di visitare questa associazione provinciale di aiuto sociale per i detenuti e credo che stanno veramente svolgendo un lavoro importante per favorire anche un riserimento di queste persone una volta uscite dal carcere. Attraverso il lavoro di questa associazione e di molti volontari che si dedicano e che seguono anche questi lavori e credo che siano di ulteriore aiuto ma che ancora una volta attraverso il volontariato che è l'anima, che sono i veri valori, che il Trentino, la nostra provincia autonoma sa esprimere anche all'interno di questa associazione hanno un loro ruolo e di questo io sono fiducioso ma soprattutto dopo questa visita ancora una volta mi sento di dire che attraverso la nostra autonomia speciale iniziative come queste fanno solo bene alle persone per garantire loro e dare loro soprattutto speranza.